La salute, il pane e le rose. Nonostante tutte le difficoltà, il rapporto su Milano c'è, reference book ormai apprezzatissimo, oltretutto trentesimo. Sì, abbiamo voluto proprio ringraziare e insieme proporre cose nuove, ma ringraziare la città, ringraziare gli amici, le amiche, i professori, gli esponenti delle forze sociali, culturali di Milano che in questi tre decenni ci hanno consentito di monitorare le trasformazioni culturali, civili, sociali di questa città. E lo abbiamo fatto prendendo spunto da una richiesta esplicita che l'Arcivescovo mi aveva fatto più di un anno fa, e cioè che il rapporto si occupasse delle donne. L'abbiamo dedicato alle donne e nel bel mezzo del nostro lavoro, che aveva già coinvolto le università, la Casa della Carità, dirigenti dell'azione cattolica, esponenti politici, eccetera, è scoppiato il Covid. È stato un rischio, eppure siamo riusciti ugualmente a lavorare e a quel punto ha preso corpo quel titolo. Cioè, le donne sono le rose, doveva essere quello. Si è aggiunto la salute perché il Covid, certo, ma il Covid oltre al virus e alle infezioni, ha messo a nudo il problema della territorialità della salute, della tutela della salute. E poi il lavoro perché sono le donne che in questi due o tre mesi hanno mostrato ancora una volta di essere le forze di questa società e di questa città.